Forse una fugace relazione accompagnata anche da immagini a sfondo sessuale che però furono fatte girare anche ad altri contatti. Fu una donna a denunciare quanto accaduto e la diffusione non autorizzata dalle immagini che pare fossero state inoltrate attraverso messaggi e chat. I PM però anche al termine dell'incidente probatorio non hanno individuato elementi per proseguire l'indagine. L'attenzione degli investigatori sulla base della denuncia presentata dalla donna si concentrò su due uomini, tutti vivono e lavorano in città. La procura anche martedì mattina davanti all'Egip Roberto Riggio ha ribadito la richiesta di archiviazione che invece è stata contestata dal legale della donna che ha proposto formale opposizione. L'assenza di estremi per eventuali contestazioni è stata sottolineata anche dalle difese dei due uomini denunciati rappresentati dagli avvocati Giuseppe Donegani, Emanuele Maganucco e Giovanna Zappulla. Pare che dall'esito dell'incidente probatorio non siano emerse prove concrete di una diffusione delle immagini direttamente imputabili ai due, uno dei quali avrebbe una posizione decisamente marginale. Le immagini sono comunque girate tra più contatti e la donna ne sarebbe venuta a conoscenza decidendo di rivolgersi alle forze dell'ordine. Sarebbe stato un familiare ad informarla, l'archiviazione invece è stata chiesta anche per l'ipotesi di calunnia che ha debitata proprio alla donna. In questo caso i legali dei due uomini chiamati in causa si sono posti. Sarà il GIP a decidere sciogliendo la riserva su una vicenda che scaturì proprio dalla diffusione delle immagini che arrivarono su diverse chat pur senza alcuna autorizzazione.